Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. L'argomento che ho scelto riguarda la memoria e in particolare come studiare non a memoria. Per essere più chiaro voglio parlarti di come evitare di studiare solamente basandoti sulla memoria e quindi quali sono gli altri due concetti molto importanti che devi integrare insieme a quello della memorizzazione per ottimizzare la qualità del tuo studio. Prima di ogni cosa comunque mi presento brevemente, sono Nicola, sono un dottore in scienze tecniche psicologiche laureando la magistrale di psicologia e con questo canale sto creando e sto costruendo con già più di 100 video una piattaforma in cui tutti gli studenti universitari possano trovare le risorse necessarie per riuscire a studiare nel modo corretto, ottenere i risultati che desiderano e soprattutto non rinunciare alla propria vita. Nel caso specifico oggi voglio parlarti della memoria e come evitare di studiare basandoti solo su questa. Ovviamente voglio chiedere fin da subito, la memoria è fondamentale, è uno dei pilastri di qualunque forma di apprendimento, anzi è un requisito di qualunque forma di apprendimento. Non possiamo eliminarla, non dovremmo eliminarla e quando questa manca comporta dei problemi seri. Quindi quello che in realtà dovremmo fare è capire che insieme alla memoria vi sono altri due elementi importanti che sono la comprensione e l'esposizione. Infatti se non utilizzi anche questi due elementi ti trovi a studiare in modo distaccato rispetto al materiale che stai studiando appunto e soprattutto in modo troppo meccanico. Infatti ti sarà capitato di studiare in prima persona o di sentire qualcuno studiare e memorizzare esclusivamente e quindi poi ripetere a pappagallo quello che è stato il copione che ha appunto memorizzato. Ma questo non è studiare. E infatti oltre alla comprensione e all'esposizione dopo parleremo anche dell'improvvisazione perché è importante sapere improvvisare e perché può fare la differenza per ottenere sempre voti alti. No quindi facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire perché la memoria è importante ma non è sufficiente. Ti voglio proporre una metafora molto semplice. Immagina di avere uno scatolo e di riporre dentro questo scatolo degli oggetti. Questi oggetti sono le informazioni che devi studiare e lo scatolo è la memoria. Se tu ti basi solo nella memorizzazione e non tieni conto né della comprensione e né dell'esposizione stai mettendo qualcosa nello scatolo ma non sai che cos'è. E quindi quando al momento dell'esame ti viene chiesto di riprendere da quello scatolo quelle informazioni che ti servono, se riesci quindi a riportarle fuori basta un minimo di incertezza per non riuscire più a orientarti tra tutto quello che hai immagazzinato, se sei uscito a immagazzinarlo. Attraverso la comprensione invece entri a piene mani e riesci a capire che cosa stai mettendo dentro quello scatolo, quindi riesci a capire che cosa stai memorizzando. Lo fai con molta più facilità, quindi eliminando sforzi inutili e soprattutto ottieni una migliore organizzazione delle informazioni e una maggiore sistematicità e affidabilità quando queste informazioni le devi riprendere dallo scatolo e proporre a chi ti sta interrogando, quindi in questo caso parliamo durante un esame scritto o orale. Quindi per tirare le somme di qual è il ruolo della memoria possiamo dire che è un elemento, come abbiamo accennato all'inizio, indispensabile, necessario, ma non è sufficiente. Infatti pensare che studiare corrisponde a memorizzare è una visione troppo riduttiva e anche troppo striminzita. Quindi quello su cui devi basarti è la comprensione e l'esposizione e vediamolo nello specifico. Per comprensione io intendo la capacità di portare le informazioni nel pratico, quindi se vuoi veramente capire qualcosa cerca di capire dove questa è utile, dove puoi applicarla. Se segui i miei video mi avrai sentito dire più volte che lo scopo di colui che si laurea è quello di aver acquisito le informazioni necessarie per riuscire a essere una figura professionale utile per qualcun altro nelle tantissime accettature che l'utilità può prendere e che dipende poi dal tipo di corso di laurea che hai scelto. Quindi se hai scelto di essere un medico aiuterai in un modo, se hai scelto di essere un avvocato aiuterai in un altro modo. In ogni caso è sempre una questione di utilità, ma se non hai capito come essere utile, la semplice memorizzazione non ti serve a nulla. Quindi porta nel pratico quello che hai studiato esclusivamente a livello teorico. Per ritornare un po' alla metafora della scatola che ti ho fatto all'inizio, immagina di trovarti in una situazione professionalmente rilevante in cui ti trovi davanti a qualcuno che chiede il tuo aiuto. Quindi tu sai che se hai memorizzato le informazioni, ma hai capito cosa hai memorizzato, hai organizzato bene all'interno di quella scatola le informazioni che ti servono, sai esattamente cosa andare a prendere, proprio come faresti all'interno di una scatola degli attrezzi in cui per ogni attrezzo corrisponde una determinata funzione, una determinata utilità. Funziona esattamente allo stesso modo. Quando hai bisogno di un determinato strumento che è acquisito durante la tua formazione, devi andare a prendere esattamente quello. E la semplice memorizzazione questa cosa non la permette. Quello che ti permette di farlo è proprio la comprensione. Infatti per riuscire a scegliere qual è quella competenza che devi riuscire dalla scatola, e quindi applicare, dipende anche molto il contesto. Devi riuscire a contestualizzare le informazioni quando le studi, considerando che queste poi avranno la propria utilità nel contesto poi in futuro. Quindi questo è molto importante per riuscire a fare uno step successivo, oltre alla memorizzazione, anche la comprensione. Però se hai capito qualche cosa e l'hai memorizzata, devi essere anche in grado di comunicarla agli altri. E qui arriviamo all'esposizione. Una frase simpatica che mi piace proporre e ricordare è questa. Una verità detta male è una bugia. Quindi anche se ciò che stai dicendo sai che è corretto da un punto di vista del contenuto, di quello che hai studiato, ma se non riesci a dirlo, a esporlo quindi nel modo corretto, quello che stai dicendo non avrà lo stesso effetto che avrebbe dovuto avere qualora tu avessi esposto nel modo più idoneo, in modo più efficace, riuscendo a comunicare esattamente quello che ti interessava. Ci sono tanti motivi per cui quello che comunichiamo spesso non è esposto nel modo migliore. E uno dei fattori che entra in gioco nel caso specifico dell'esame potrebbe essere l'ansia. Infatti ti invito per riuscire ad essere indipendente nella fase dell'esposizione ad allenare la tua capacità di improvvisare. L'improvvisazione nell'esposizione è sempre migliore rispetto a seguire un copione rigido che ti blocca all'interno di quella che poi diventa una vera e propria gabbia, che ha un minimo di certezza ma comunque non ha nessuna flessibilità. Ovviamente improvvisare non vuol dire sparare informazioni a raffica senza nessun nesso logico e quindi senza nessuna utilità. Infatti l'improvvisazione riguarda riuscire a prendere quei temi che hai studiato, quindi durante le fasi di studio individuale, riuscire a integrare anche i dettagli che sono necessari. Quindi diciamo che una buona improvvisazione ha sempre alla base una certa preparazione e competenza, ma la possibilità di reinventare sul momento velocissimamente il modo in cui queste informazioni le esponi dipende molto dall'allenamento che sta appunto dietro all'improvvisazione. Deve essere sempre in grado di riuscire a riadattare velocemente quello che devi dire facendo in modo di far pensare all'altro che quello che hai detto invece era già molto più strutturato. Fare questo ti permetterà in primo luogo di riuscire a creare delle frasi che hanno un nesso logico in tutto il discorso in modo molto rapido e al tempo stesso non ti troverai schiavo della memoria. E quindi ritorniamo all'argomento principale del video che è quello di riuscire a studiare non puntando solamente sulla memoria, ma puntando molto sulla capacità di esporre e improvvisare l'esposizione grazie soprattutto alla comprensione degli argomenti che hai studiato. In fin dei conti, riuscendo ad integrare questi tre aspetti della memoria, dalla comprensione e dell'esposizione, riuscirai ad evitare la scena muta e soprattutto di perdere il filo del discorso mentre parli, proprio perché non hai una struttura troppo rigida che devi seguire e sei sempre in grado di riadattarti e soprattutto poter rispondere a quelle domande che cercano di farti cadere un po' e che sono quelle domande importanti per vedere se ti meriti il voto più alto, quindi se ti meriti un 30 o anche una lode. Quindi spero di averti aiutato a capire che la memoria non è l'unico elemento fondamentale, quali sono gli altri elementi fondamentali, come questi operano e come devi utilizzarli a tuo favore. Se ti è piaciuto il video, ti invito ad iscriverti al canale anche per riuscire a rimanere sempre aggiornato sui video che escono ogni giorno e al tempo stesso, se hai dei dubbi, se hai qualche curiosità o magari mi vuoi fare sapere come va lo studio in questo momento, scrivi nella sezione dei commenti che leggo sempre con molto piacere e rispondo con altrettanto piacere. Quindi ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ti aspetto nel video di domani. Grazie a tutti.